KINGWIN Windows 10, 7, Server Office 2019, 2016, 365 Codici regalo e tanto altro Insomma è un ottimo store online per risparmiare sul costo delle licenze Io personalmente l'ho testato e finora non ho avuto complicazioni Eccoci qui, in descrizione vi lascio un po' di cose Ovvero il link che riporta alla documentazione ufficiale Microsoft L'articolo di Windows Blog Italia dove è spiegato nel dettaglio Windows 10X E da come avete visto prima anche il video dedicato a Surface Duo Non vi mostro l'installazione e la configurazione dell'emulatore Se no il video diventa troppo lungo Perciò vi lascio qui come videata solamente l'elenco delle cose da scaricare Installare, i requisiti minimi e raccomandati software, hardware e basta Insomma in queste quattro schermate avete tutte le info necessarie per poter far girare questo emulatore Grazie Iniziamo la presentazione mostrandovi la schermata di blocco Molto simile a quella che attualmente conosciamo Uno swipe permetterà di accedere al sistema operativo Inoltre la schermata per arrestare o riavviare il device è stata completamente rivisitata Il menu Start è la prima vera novità In alto è presente una barra di ricerca che permette di cercare nel web tra file e app dell'OS Funziona anche la ricerca vocale Per impostazione predefinita vengono mostrate le app personali e siti web visualizzati di recente Inoltre tra gli elementi consigliati è possibile visualizzare file, app e altro ancora Cliccando sul pulsante Mostra tutto vengono visualizzate tutte le app e i programmi Win32 installati Cliccando su un'app è possibile aggiungerla alla barra delle applicazioni Accedere rapidamente alle impostazioni oppure disinstallarla I sfondi possono essere selezionati e impostati direttamente dal desktop Facendo clic col tasto destro su un punto vuoto per mostrare il menu contestuale Un po' come avviene per Android su Surface Duo Non è presente il classico Explorer file Bensì la moderna versione UVP che permette di accedere alle cartelle dell'utente E ai file presenti in eventuali dispositivi mobili Microsoft attualmente sta cercando personale addetto per concentrarsi sull'Esplora file Non sembra ma è un programma decisamente difficile da modificare Il centro operativo e il centro notifiche sono stati completamente ridisegnati Il controllo del volume e della luminosità avvengono grazie a uno slider Inoltre è possibile accedere rapidamente ai dispositivi Bluetooth alla modalità non disturbare e altre ancora Anche in Windows 10X è possibile personalizzare gli elementi presenti nel centro operativo eliminandoli o aggiungendoli Se si riproduce un contenuto multimediale un nuovo widget fisso e separato dal resto del centro operativo verrà visualizzato permette essenzialmente di muoversi avanti e indietro tra le tracce e mettere play pausa L'aggiunta di un nuovo device Bluetooth o di un device audio avviene con pochi semplici click Novità anche per la barra delle applicazioni Ora è nascosta per impostazione predefinita ed è centrata Tuttavia è possibile personalizzarla e scegliere se centrare l'icone o averle allineate a sinistra come su Windows 10 E' anche possibile scegliere se visualizzare il pulsante visualizzazione attività sulla destra o accanto al pulsante start Una delle novità più importanti di Windows 10X è sicuramente la Compose Mode che trasforma il secondo display in una tastiera vera e propria E' anche possibile scrivere a mano libera nello spazio superiore la tastiera E non solo, lo spazio sopra la tastiera prende il nome di Wonder Bar E può essere usato per la modalità Picture in Picture Anche la tastiera virtuale è stata aggiornata In alto a sinistra è presente una nuova icona a forma di cuore Essa permette di accedere alle emoji utilizzate di recente e di cercare ed inserire rapidamente delle GIF I tasti in sé presentano dei bordi più tondeggianti Aspetto che Microsoft sta portando avanti anche su altri scenari come nelle schede di Microsoft Edge Parlando proprio di quest'ultimo, la versione basata su Chromium è già preinstallata Quella vecchia è sempre presente e sembra funzionare decisamente meglio nel rendering delle pagine web Il sistema operativo occupa poco più di 16 GB Anche questo è un ottimo risultato Sempre più spazio verrà lasciato per installare app e giochi Il pulsante visualizzazione attività permette di visualizzare tutte le app aperte e di chiudere quelle non necessarie L'installazione dei classici programmi Win32 avviene senza alcun problema In un container, ovvero un modulo che carica ed esegue il programma Win32 in un'area riservata del sistema Non in grado di intaccare il registro Questo modulo non rallenta il sistema operativo Poiché viene caricato soltanto quando l'utente decide di avviare un'app o un programma Win32 La sicurezza dell'intero sistema operativo è affidata a Microsoft Defender Antivirus Che monitora tutte le diverse componenti, incluse le app e file scaricati da internet Programmi e app possono essere spostati da uno schermo a un altro Se un'app supporta la multifinestra è possibile visualizzare una schermata su uno schermo e un'altra schermata sull'altro schermo Vi ho dato una panoramica su quello che ha Windows 10X Ci sarebbero tante altre chicche da vedere ma, come ho detto prima, vi lascio tutto negli articoli di Windows Blog Italia Cosa importantissima da dire, agli utenti più accanniti piacerà molto Che Microsoft ha promesso un aggiornamento del sistema operativo in 90 secondi Tutto questo grazie ai container che aggiorneranno solo le componenti effettivamente necessarie Senza restallare il sistema operativo intero come a volte capita Considerazioni? A me piace molto l'idea di MS Sicuramente farà contrasto a Chrome OS Decisamente migliori rispetto al classico Windows 10 se lavoriamo in mobilità Probabilmente agiremo più spediti nel prendere appunti all'università o durante una riunione di lavoro L'unica preoccupazione che ho sono i futuri dispositivi che adotteranno questo OS A quante aziende piacerà quest'idea? Insomma, si spera che non accada come Windows Mobile Al momento sappiamo che ad Asus, Dell, HP e Lenovo l'iniziativa piace E probabilmente si saranno già messi all'opera su nuove macchine Quindi Surface Neo non sarà solo Noi ci vediamo al prossimo video Noi ci vediamo al prossimo video Noi ci vediamo al prossimo video Noi ci vediamo al prossimo video